La Dino sarà disponibile a partire dai primi giorni di marzo 2020 nei migliori negozi specializzati di prima infanzia di tutta Italia e anche di tutto il mondo quindi abbiamo finito adesso lo shooting fotografico ci accingiamo alla conformazione definitiva del catalogo e dopodiché sarà pronta per essere sul mercato appunto da marzo in poi